Continua per un chilometro Siamo arrivati a quasi Bologna Siamo arrivati, manca mezzo però No, no, siamo arrivati Siamo arrivati Adesso parcheggiamo qua e scendiamo Si avvicina o no? Di tutto punto Per essere forti toccherebbe tagliare Riposo? Ma sa che c'ha? E' che pesa più da una parte che dall'altra Non c'è strano E' stasera, la serata è stasera L'ultimo chiudè Siamo qua a Bologna perché siamo venuti al Palazzo Pannolini Sembra chiaro, no? Logico Facciamo i cali Sono due, Palazzo Pannolini Poi stasera dove suoniamo? Stasera niente Praticamente siamo qua che Ci hanno chiamato per un progetto Sembra che ti ha fanagito Per un progetto alternativo Suoniamo l'arteria O arteria com'è che si chiama? Arteria perché è arti Le arti E' più dialetto E' tipo farmacia Esatto, perché farmacia E' niente Suoniamo verso le 11 Io siamo sopra la mania di Cesare Zaudi Guarda che ora è Zaudi Viviano, ma siamo sopra la mania di Viviano Firmata anche Ciao raga Vi volevo dire la serietà del bordero a Vedenzo Ci sono sti nuovi tavoli che spaccano Un po' circolare Ci sono stati economici Ciao Andrei Ehm come è stato il risveglio Ora 8.20 Alla conquista di Ebola Abbiamo chiesto al tipo Abbiamo raggiunto la porta Ladro delle bottigliette Continua il tour negli autogrill Metodi per caricare senza bagnarsi No, nel senso buono No, nel senso buono Ma che affari ha comprato? Che hai fatto? No, no L'alimentazione è dentro Ma questo ombrello grasso di chi è? Di Bebo Siamo arrivati qui, siamo a 110 Quasi professional Guarda il tremore della caviglia Guarda il tremore della caviglia Che sottolinea la resistenza del tono muscolare Vesciamente troppo basso Esatto Nuovi metodi Vaffanculo Non dovete sognare con Vincenzo C'ha ragione C'ha ragione Ci stanno per sparare No, ce l'ha di qui Ce l'ha di qui Non dovete sognare C'è Le Tre C'è Le 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sparatemi adesso Ragazzi arrestano Siamo fuori di un'emozione Buonichine ma ci arrestano